Musica Campi inzuppati, piantini avvolti dalle muffe e raccoglitori con gli stivali sembrano campi di riso, quelli in cui vi ci sguazza il pomodoro ma la stagione è questa, prenderlo e lasciare e al pomodoro d'industria ormai non ne va più una bene da qualche tempo a cominciare dal prezzo del prodotto che ha perso negli ultimi 10 anni il 40% secondo la stima degli industriali il pensiero è pessimista e va detto che a guardarsi intorno ai campi di pomodoro non permettono nulla di buono la raccolta del pomodoro è cominciata soltanto da qualche giorno in tutta la provincia di Foggia che resta uno dei più importanti bacini europei con la media di 18 milioni di quintali quella del luogo, ovvero i prodotti di punta, partirà quasi contestualmente e comunque con tutti si fanno gli scongiuri gli agricoltori dicono che quest'anno si raccoglierà il 30% in meno rispetto alla resa stimata in ogni caso le muffe e l'arobanche il devastante passita che non si è riuscita a debellare certamente ridurranno le quote di raccolta anche se nessuno sa dire di quanto la guardia costiera di Manfredonia ha tratto in salvo due persone a bordo di una tante da di porto in difficoltà a causa delle avverse condizioni meteo nei pressi di Manfredonia sempre gli uomini della capitina di Porto hanno prestato soccorso a due persone di nazionale straniera a bordo di un canotto nella baia di mattinata questi interventi si aggiungono a quegli effettuati dalla guardia costiera nella giornata di ieri l'altro in tutta la costa italiana infatti sono state condotte operazioni di soccorso che hanno permesso di portare in salvo solo nella giornata del 6 agosto ben 49 persone il comandante della capitina di Porto di Manfredonia raccomanda il preventivo accertamento della funzionalità della propria unità nonché il controllo delle previsioni meteorologiche prima di prendere il largo ricordando altresì di non esitare di contattare la guardia costiera al numero di emergenza 15-30 in caso di difficoltà truffe ai pazienti a policlinico scoperto della pubblica sicurezza tra Roma e Manfredonia avrebbe ingannato due anziani fingendosi un altro infermiere e spostandogli così gli appuntamenti per mettere in atto le sue truffe da qui un 26 anni originario di San Giovanni Rotondo studente della scuola specializzazione per infermieri perso il policlinico Umberto I è stato sottoposto all'obbligo di firma in seguito ad una operazione congiunta del commissariato università in collaborazione con gli agenti del commissariato di polizia di Manfredonia in particolare lo studente approfittando della sua qualità di tirocinante adetto alla ricezione delle schede contenenti dati personali e di recapiti telefonici dei pazienti in cura presso un laboratorio dello stesso ospedale li contattava telefonicamente qualificandosi per tale Nicola infermiere del suddetto servizio con la scusa di agiavolarli invitava alcuni pazienti già con appuntamenti per eseguire esami clinici a presentarsi il giorno successivo per eseguire detti esami like ah ah ah